Allora, ospite sempre graditissimo al nostro Out Corner, Vinicio Marchioni. Ciao Vinicio, come va? Ciao, molto bene, grazie. Noi ci incontriamo a Milano, sei venuto in redazione a Milano, poi ci incontriamo a Roma, a Veneto. È la bellezza di questo mestiere. Esatto. Senti, partiamo da uno dei motivi per cui sei qui a Veneto, che è Alfredino, che è la nuova serie Sky, la prima puntata è il 21, la seconda va il 28. Che effetto ti ha fatto tornare in quel incubo, poi a tutti gli effetti? Ma sai, è stata una responsabilità enorme, da subito, insomma, devo dire grazie anche alla regia di Marco Ponte Corvo, che è un regista con una sensibilità, una grazia, un tipo di tocco giustissimo, secondo me, per questa storia. E da subito, con lui e con il resto degli attori, da Anna Poglietta per prima, Luca Angeletti e tutti gli altri, Francesco Acquaroli, eccetera, senza che ci dicessimo niente, però si è creato da subito, cioè era come se tutti quanti ci fossimo sintonizzati da subito su un'etica, su un tipo di rispetto per questa storia. E tutti quanti, è come se io ho sentito da subito la sensazione di un'opportunità per essere un grande megafono dell'Italia, nel senso che chiaramente in quei giorni di 40 anni fa, come sappiamo, si è fermata l'Italia, la prima diretta. Uno dei rari momenti di unione nazionale del paese. E quindi, quando mi sono ritrovato sul set, come attore con 40 anni di distanza, è come se avessi veramente sentito la concentrazione di tutta l'attenzione italiana che c'è stata durante quei giorni. anni, quindi ogni volta che parlavo, ci sono delle scene nella serie in cui parlo con Alfredino, eccetera, lì è stato molto difficile, perché sai, lì devi dividere, come dire, l'uomo, l'uomo, il padre, dall'attore, dal ruolo. E questo è stato veramente uno, insomma ci sono state due o tre scene veramente molto complicate da fare. Mi auguro che esca un equilibrio e mi auguro che esca anche quell'unione, perché penso che questa serie sia proprio la possibilità di riunire l'Italia ancora, come si è riunita 40 anni fa. perché ci riuniamo sempre davanti alle partite dell'Italia, che è una cosa meravigliosa. Durante quei giorni invece l'Italia si è riunita davvero da nord a sud, dimenticando ogni differenza, ogni cosa che ci divide quotidianamente. E mi auguro che questa serie possa fare in qualche modo la stessa identica cosa. E ultima cosa, sono felicissimo del fatto che ho interpretato un Vigile del Fuoco, perché sono straordinari, perché fanno un tipo di lavoro incredibile, arrivano prima di tutti e vanno via prima che arrivino le telecamere. La loro preparazione, la loro competenza, il loro coraggio, la loro praticità, il loro cuore e l'umanità con cui gestiscono delle situazioni di una difficoltà e tragicità molte volte, ai incredibili. Sono molto felice, perché è un onore anche portare quella divisa lì. Senti, qui a Benevento, che è il film di cinema e televisione, tu sei perfetto, perché hai Alfred Dino, poi hai un nuovo film di Daniele Vicari, il giorno di notte è girato durante il lockdown, e poi però c'è pure teatro con questo nuovo progetto molto affascinante e molto attuale, che è Sposerò Biagio Antonacci, che tu dirigi con Milena Mancini. Sì, Sposerò Biagio Antonacci è un lavoro a cui pensiamo da molti anni ormai, perché... Nel titolo cita però il famoso Sposerò Simon Le Bon, ma perché? Perché la difficoltà nel trattare un argomento come il femminicidio e la violenza sulle donne, argomento di cui non si parla abbastanza mai, la difficoltà di Milena che ha scritto questo testo, oltre ad essere in scena, era quello che lei voleva trovare anche un equilibrio, anche qui qualcosa che potesse essere facilmente condivisibile con un pubblico, voleva trovare anche qualcosa di leggero all'interno di questo argomento qui, cosa ovviamente molto difficile. Un anno fa, invece, riscrivendo, rilavorando, riparlandone, ha immaginato che questa donna, la protagonista di questo spettacolo, potesse avere un'utopia, il grande sogno che in qualche modo nella quotidianità la potesse portare via da quelle mura domestiche, trovandolo in un cantautore amatissimo, soprattutto dalle donne, che ringrazio davvero anche a nome di Milena. Poi era appoggiato, no? Sì, perché noi per utilizzare questo titolo naturalmente abbiamo dovuto chiedere l'autorizzazione, Biaggio ha voluto leggere questo testo, dopo averlo letto ci ha invitato dentro casa sua, Milena gli ha fatto una prova dello spettacolo lì e lui, realmente commosso dai temi e dall'interpretazione di Milena, ha preso la sua chitarra e ha iniziato ad improvvisare. Dice, perché qui io metterei questa cosa, guarda se ti può suonare bene, guarda se ti è utile emotivamente, guarda qui, guarda lì, ed è stata un'improvvisazione, è una creazione lì per lì e questo, devo dire, gli fa veramente onore perché è il suo modo di essere, di appoggiare questo tema, insomma. Ma scusa, quindi dopo la prima che farete adesso a Napoli, c'è l'idea di portarlo in natura? Assolutamente sì, il problema è trovare le date, nel senso che purtroppo non penso che riusciremo a portarlo in giro prima dell'autunno, l'anno 2022 perché a causa dell'anno e mezzo di pandemia… gli spettacoli in coda. Là sì, bisogna prima recuperare tutti i spettacoli che sono stati bloccati, le produzioni che sono state bloccate e poi si porterà a portare in scena. Però stiamo già parlando con molti teatri e speriamo davvero di poterlo condividere con maggior parte del pubblico in Italia. Senti, io ti faccio la mia domanda preferita perché tu sei sempre tra cinema, appunto teatro e tv. Se dovessi scegliere però, viene qua uno e ti dice no Vinicio, basta, una, devi sceglierne una. Altrimenti vi è. Teatro. Teatro, eh? Sì, sì. Abbiamo scritto un film, abbiamo scritto un paio di cortometraggi, abbiamo cercato di utilizzarlo creativamente nonostante l'impossibilità di andare in scena. L'assenza del pubblico è una delle cose più tragiche per un attore naturalmente e anche per un regista perché durante quei mesi e questi mesi in cui ancora i teatri fanno molta fatica e ne faranno ancora tanta, la cosa che mi ha fatto riflettere molto è che ti chiedi davvero che importanza abbia il tuo mestiere. nella società, cioè che cosa se ne fa la società di un attore? Perché nel momento in cui i teatri sono chiusi non hai una casa, non hai un luogo, non hai… e quindi ti chiedi veramente a che servi in questa società qui in cui siamo stati, come dire, sorpassati dagli influencer, da tantissime figure che funzionano molto di più e già la parola funzionare fa paura, insomma, però è stato un periodo in cui abbiamo veramente… penso, cioè perlomeno io ho riflettuto moltissimo su quello che significa essere un attore oggi in questo paese, essere un regista oggi in questo paese che magari per sei mesi si chiude, scrive, studia per la messa in scena, studia per mille cose e poi i teatri non ci sono, o i teatri sono chiusi o i teatri faranno molta fatica a riaprire o il pubblico chissà se tornerà nelle sale teatrali o se bla 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 bla… quindi è stato un grande periodo di… lo è ancora, tra l'altro, come dire, di riflessione su quello che sei, non solo su quello che fai o hai fatto, ma su quello che incide del tuo lavoro nella società in cui lo fai. Senti, volevo chiudere con due cose, una leggera, Murigno… Murigno è in bocca al lupo, a lui e… ma sai, per me è stato, come dire, la… cioè, dice, wow, qui si stanno cercando di fare cose serie. Perché a te piaceva Fonseca, mi ricordo. Sì, Fonseca mi piace tantissimo, penso che farà una grandissima carriera come mister, però la piazza di Roma, sai, è difficilissima, è una piazza infernale. Credo che Murigno sia abbastanza rodato e abbastanza pazzo da poter avere a che fare con una piazza come Roma. Cioè, mi aspetto delle grandi sorprese, non so come dire, mi aspetto che può succedere qualsiasi cosa, pro o contro, però… ci divertiremo. Penso che ci divertiremo molto, sì. Senti, prima di chiudere, di farti scegliere un gadget, volevo farmi… sei sempre esposto, hai sempre parlato chiaro, sono vent'anni tra poche settimane del G8 di Genova, insomma, un'eredità che abbiamo ancora addosso, che abbiamo smaltito fino a un certo punto… No, non smaltiremo mai, secondo me. Ma sai, mi ricollego anche ad Alfredino, tra l'altro abbiamo fatto con Milena anche il film di Daniele Vicari, il giorno e la notte, e lui ha girato un film straordinario, Diaz, su quei fatti lì. Noi abbiamo uno strano rapporto, noi come Italia, secondo me, abbiamo uno strano rapporto con la morte, cioè non riusciamo ad elaborare i lutti che coinvolgono tutta l'Italia, insomma. O li rifiutiamo, li nascondiamo sotto a qualcosa, a qualche tappeto. Oppure è come se non riuscissimo ad avere la serenità di ripensare ad alcune cose e reagiamo immediatamente o con un odio, o con delle divisioni, o con non ci voglio pensare, con dei giudizi sommari come sempre, eccetera. Diaz è una delle pagine che dobbiamo riportarci dentro ogni volta che parliamo non solo di diritti umani, ma ogni volta che parliamo anche della ragione dello Stato rispetto alla ragione della civiltà, perché quel fatto ha fatto il giro del mondo. Quei fatti hanno fatto il giro del mondo. penso che dovremmo avere un altro dialogo con l'autorità, perché l'autorità è fondamentale in ogni paese. però è il tipo di interscambio che un cittadino di qualsiasi paese deve avere con l'autorità che lo rappresenta, che gli dà la cittadinanza, che gli dà un luogo, che gli dà i diritti e i doveri. questo dialogo, secondo me, ancora dobbiamo fare tanti passi, tanti passi. Senti, chiudiamo una cosa, un giochetto qui, scegli uno dei gadget di Hot Corner. Abbiamo Calamita per il tuo frigo, Jurassic World oppure Redford. Che dici? Sono pazzo di Robert Redford, ragazzi. Con la coppoletta pure, Robert Redford è stangato in effetti così. Pazzesco. Nicio Marchionne e l'Hot Corner. Grazie a tutti, grazie Andrea. Grazie a tutti.